a far precipitare i mercati nel mondo intero a provocare paure di una recessione imminente almeno qui negli stati uniti nell'arco di uno o due anni c'è il fatto che l'inflazione si sta rivelando più resistente più durevole di quanto si sperava e quindi c'è l'aspettativa che domani la federal reserve la banca centrale americana possa essere costretta ad alzare i tassi in maniera più robusta e anche la prospettiva che questi rialzi dei tassi durino più a lungo l'aumento del costo del denaro interviene sull'economia in tanti modi riduce la spesa per consumi per investimenti perché tutti hanno bisogno a un certo punto di indebitarsi le imprese per investire i consumatori spesso quando usano le carte di credito gli acquisti rateali ci sono dei rimborsi che sono legati ai tassi di interesse correnti infine anche il mutuo casa è uno dei modi attraverso cui il rincaro dei tassi modera la domanda e tutto questo però può accelerare una recessione c'è poi un effetto di impoverimento e questo forse uno degli aspetti più preoccupanti e meno conosciuti o meno capiti dalle persone normali come siamo noi e cioè il fatto che il rialzo dei tassi deprezza svaluta l'immenso patrimonio dei bond dei titoli a reddito fisso che costituisce la ricchezza dei pensionati anche in america o soprattutto in america i fondi pensione sono investiti in bond e quindi in questo momento tutti i pensionati d'america temono di diventare un po più poveri ma questo scenario di rialzo dei tassi di interesse che da domani avrà una nuova risposta vedremo se la fed alza solo di mezzo punto o addirittura di tre quarti di punto tutto questo ha poi delle conseguenze geopolitiche per esempio vedremo se la tenuta dell'occidente nell'aiutare l'ucraina continua ad essere tale anche quando le preoccupazioni economiche prevarranno e poi c'è la grande sfida di sempre la rivalità con la cina la cina troverà ancora una volta a dimostrare che il suo modello di capitalismo è superiore al nostro perché sta già azionando tutte le leve della spesa pubblica del dirigismo del capitalismo di stato per evitare di calare in una recessione se la cina dovesse riuscire a in qualche modo a rendersi autonoma dal ciclo economico degli stati uniti nonostante la sua grande dipendenza dalle esportazioni e quindi dalla domanda occidentale ancora una volta i cinesi potrebbero uscirne a testa alta sostenendo che sanno governare l'economia meglio di noi